Non si tratta di un signor Sulbarama, che è un membro del Parlamento indipendente, un personaggio che può essere questionato seriamente, che ha indicato come si era, anche per seguire il signor Scott, perché è fatto con un mappone importante, il petrolio di noi, l'Island, non in questa vista, il risultato è perdito, eccetera. Ma il mio mappone non è apparecevo, principalmente, non sono disattività, non conosciamo il signor, che era Scott e mi sono riuscito a riuscire a riuscire a riuscire al Parlamento, con il PD, per attendere questa discussione del Banco Centrale, eccetera, l'elettorale, il MFK, il PD, c'è il Partito Manta, con la sua opinione su quello che tratta del Banco Centrale, l'annuncia, però è stato relazionato a riuscire, però ha avuto il risultato di questo assunto di mappone, che ha perdito, che ha avuto il 16, che ha apparece, che ha messo un archivo che ha indicato un principio, che mappone è l'auta, quindi è stato un costo remarcato, sicuro, ora non è che ha da questionare, eccetera, non sta a metterla, si preguita, mappone naturalmente, allora mi ha avuto il assunto, che ha avuto una riuscire a riuscire al Parlamento, che ha avuto il Banco Centrale, andò, primeramente, e beh, non è mappone, anche a parecchio. Signor Scott, buon dia. Felizmente, anche, il tuo tuo team, che ti tratta, per informare il po' di questo, con informazione veridica, andò, il po' di questo, di me, che ti escuta, un buon programma di notizia, però, anche, ovviamente, in focchio. E me, signor Scott, non ha expropriato, il mappone di petroli. Buon, mi ti chiede, Daniel Hodge, sinta come promenista, di un governo, manera, non è mele, è un governo di professionale, non è professionale, non cobbine, ma non sei, non risolvere il problema del paese, anche, e non è tutto, che tipo di problema, non è solucionare, non è nulla, ma non è solucionare, non ha, vai o agden, archiv, come è promen, non è una cosa, action, non ha, e, è un onderzo, con l'anze, 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 quindi, apparentemente, è conclusione, assa, e, in fine, con manera, di sponere, è un mappone, con la data, fuori, è un 80, con l'anze, di archivo, di, di, il gobierno, è un edificio, Beck, 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 one, è un luogo, a, in Angri, e, c'è, 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 il cambio, c'è, 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 Andrew Jones, e non hanno l'archivio che il governo ha usato e non hanno il documento di guardare tirato, papiando di tirato tirato, assombroso ma tende lei flangta papi ovvi di tirato nel Parlamento ma tende Mike Franco nella televisione del papi ovvi di parlamentare non ha fatto abuso di immunità parlamentare andò che sta sperando che deve avere madurezza nel Parlamento ridiculezza di marca maio il signor Mike Franco è un leader che ha tirato tutto il Parlamento è un po' di governare il paese che ogni giorno sta papiando per risolvere la criminalità con economia per un boost per once e per all è un po' di risultato che ha fatto il suo lavoro che ha fatto il suo viaggio che ha fatto il suo lavoro che ha fatto il suo lavoro e che ha fatto il suo lavoro e quindi il signor Leiflano un po' di tempo e il signor Glanzo Lbaranco e altri hanno quasi una città che ha fatto il Parlamento ora sul Baranco a tildare che ha fatto il par che è quello che è assento che ha fatto che è la tilda il signor Leiflano che ha praticamente malgastato maluso e il progetto in maniera bozzata il barco Carla O'Maira 16 milioni di floristiche che ha sommato e con un marinero o due marinere ha fatto il tren di un progetto che costa 16 milioni di floristiche non è importante il mapa di petrolio e gass sta un mazzo con la voce che viene salita in Rilo Cico non è vero, è mentira quindi chi è salita e pede dispensa non è? sta tirato non con la tirata in Parlamento non comprendo di caso che meno male non ha aparecato naturalmente non entendo che non sappiamo se non sappiamo non ha dato un risultato come è importante il mapa in questa realtà è importante è importante che con il consorzio non è grande multinazionale che sta involvendo in explorazione di petrolio sta interessando nel anno del 2012 2013, 2014 di attende con il corso quindi è la cosa che mi accertà è discussione, ma ora è un pubblico con il nostro papio che dice over di petrolio e gass di oggi non sto guardando da qua che accionano con il nostro baiutino ma mi si ma mi chiede ma mi chiede in un ultimo bianco mi chiede di enfoque il nostro baiutino il nostro baiutino e il nostro baiutino è un baiutino che è un grande in un'altra zona di esplorazione di petrolio a cercare offizialmente il governo per attende per attende ma poi può sponere ma sono mi chiede di fronte di una compagnia total che mi chiede se total con il n è totalmente in xavron e l'urri bianco è un pape nel anno del 2012 il governo è un governo che nel anno ha 80 pico avuto a explorare nella nostra è un succesismo logico di un luogo è tempo che stava da sì, due dimensionali, stava in papi a Cubo Aveden, siglo XXI, a 2001-2002, stava a sottin' algo di papi a digito. Non ti manda un reologo con la cabeza del departamento di explorazione, stava a sottin' papi a un governo, stava a comandare. Non, stava a sottin' motivo. Stava a sottin' motivo, stava a sottin' motivo, stava a sottin' un politico, si stava a pretendere che c'è gas di Barrique Iobi e Abraham, solo c'è, etc., non ti. Tienes quei interesse per propagare con i bambini, non ti. Non ti nada, e con i luogos stava a piazza con quei interesse. Antonio Dicone, gabinete de Ion e Laje, che era paga 7.2 milioni di dólar, palaga e companhia, che barco, che non stava a sottin' parte, non stava a trattare, non, por certo, Dwight, a donna sti' ex-promeu ministra, Sra. Etienne, stava a sottin' barco, stava a tomando un' explicazione di parte di Stanko, di conoscere un documento di nostro poder, con la prima riunione di Parlamento, stava a sottin' parte, come promeu ministra a tomare l'ugare a dicembre 2010, Dwight, mi s'assi botta a corda, caminda, con non apuntra a me, over di, ehm, qui c'è lo qual nostra pretende di baihasi cu contracte non petroleiro. Pa qui co gabinete, eis afirma cu Shell, pa qui co na afirma cu Repsol, anto pa qui co na afirma che a companhia Murphy's, non afirma contracte non. Pa qui co senhora Emily de Ion e Laje, sintà, come promeu ministra di Antia Zulandes, a, am, prolongar cu treze ani e contracte di Shell, e contracte di Repsol, ante contracte di Murphy's. Bonta, qui, quem è, non ti nada de no subsuelo, per nostra firma contracte di exploração, si, cu treze companhia multinacional, anto, Dwight, un tam mi tatei, passo, a mi, na 2005, non ti ti ni noxion cu un dia l'omite primer ministra di País Corsau, pero ora mi t'abatata, mi ti 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 enxaja de documento non, anto, non exigimi duna quanti razong del Parlamento, ma bim con dosi, numerà di un teco di esquater, adon, m'explica doi deloc, quem afirma, Kiko, adon, mi ti apunta mi mes, no? Si, senyor, Néstor, etienne, eis, com o promè ministra di Antia Zulandes, cinco isla, pa kiko l'afirma que o Shell reabsol com Murphy's, pa kiko, senyora, am, di ron, a prolongar e contracte nangu treze ani, pe treze companhia na aki, ta pa kiko, pa so, nanda, da bai tra un fábrica di coiunga, no, Dwight, un tu fábrica di coiunga pa potrar cu Shell, nico reabsol, nico Murphy's, ta companhia nangu, especificamente, ta den negoci di exploraxion, e bai over na perforaxion, na momento, cu nam por anunciar, lo qual nanda yama, de amundi, discovery, anto, lo qual, total cu n, a bim hazi, na dos mil dieasun, e dos mil dieasun, corsou, papapia, cu gobierno, tabatata, basaribe, mesun cos, ejercer, ondruzuc novo, tridimensional, pa se sumbiu, cu tem mapananku, nanta buska, porta demikas, porta te sei, arastei a biazi, te sei, na bim busca, demikas, pa se lavamenti placa, o bim, nan departamento, bim, com machin, pa conta sem, demikas, a bona, nos papi, cos, maneta, e personal, e senhora, chiquito, te que iengi, o esperanza, e a boli placa, demikas, no, wakikonanasi, e departamento, beafou, adrenta, mikas, com machin, di conta placa, e senhora, chiquito, te que iengi, colo culi, ora la sale, pa fo, dimikas, ora la drenta, si, ora la sale, pa fo, dimikas, e la ri, sem machin, de laira, pa prensa, saca su potrat, pa dun impression, que tem machin, na iede, dimikas, ora na, drenta, dimikas, e acaba, lanza, xerxe, co, RST, e ami, afirma, ora na, cabe conta, e seis mil florin, que as, co, datin, demi, 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 cantor, posso, meti un cantor, namikas, ando, ora, andaba da beisa, que se, me dico, bo, santabai, que se, aqui, nan, dico, me, ya, me dico, que seis mil florin, aqui, bo, santabai, nan, di, ya, tes, bebeis, van, ade, vass, ah, well, ma hari, dimikas, ando, ma, baidensala, back, ma, caicinta, ma, firme, documento, tre, dos, vianna, conta, placa, minota, comprande, di, con, e, departamento, BFO, awordo, bisapa, bin, com, machin, di, conta, placa, sendo, nan, sacaba, cita, seis mil florin, ando, na, contena, man, den, menos, co, doze, minuto, kemen, e, intención, taba, datar, un show, ando, dia, nanda, passa, dia, nanda, transcurri, ando, non, stacaba, di, arm, puzzle, ah, ecu, mapanandi, petroli gasta, aparecè, den, archivo, den, robou, co, biero, tinta, i, urmasco, dia, sa, empawarda, documento, nand, gobiero, bieu, combatar, munchou, den, stada, nandou, papiando, di, tirada, papiando, di, franco, quente, abuso, di, imunidad, parlamentario, ora, su, colega, nan, den, co, lixion, e, co, di, trixion, di, di, su, co, ordo, formato, acordamento, di, partito, par, ta, si, tirada, ta, tira, tirada, ta, papi, mentira, ta, sali, na, claco, na, papi, mentira, kent, abisa, kiko, nye, 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 pero, mané, nye, nye, berdata, tarda, pero, ta, ye, tega, ok? Asali, un, berdata, mas, andu, mentira, di, Leiflan, di, Alex Osaria, di, Gleon Sulbaran, e, tu, restan, ku, di, silencioso, ta, queda, i, caia, na, momento, ku, mentira, nye, ta, ordo, tirada, un, parlamento, ku, si, tim, imadurez, claro, tim, imadurez, imadurez, di, un, coelicjón, ku, no, sa, kiko, nam, papi, di, je, ku, gobernando, bez, di, gobernator, di, ta, papi, di, harrods, got, si, ta, den, oposición, vai, indica, partido, paiz, ten, ku, vai, indica, comunidade, si, man, pasada, renión, publik, nam, se, presenta, ta, ku, plan, na, timpa, baja, e, criminalidade, ku, ta, asotan, un, partido, kobut, minister, profesional, ku, awe, despes, di, mas, ku, aya, di, gobernación, un, kohos, koeblo, comerciante, nan, ta, soportando, ribe, paiz, sa, ki, ta, un, ola, di, crimen, incontrolable, bau, di, mando, di, partido, paiz, anto, kiora, kumeneer, Alex Osari, abri su boca, ta, simplemente, pe, papi, atrobi, di, harats, jota, papi, di, francesco, corralo, ku, mafya, awor, un, mensaje, da, bai, na, j, anto, ma, pisa, Alisson, Manuel, i, era, parada, en, lobby, di, Hilton, ora, nost, ti, sena, un, ku, nos, pareja, nan, kende, sen, Alisson, Manuel, es un, ku, Alex Osari, etakana, presentaturi, en, kutat, doio, partido, paiz, po, po, di, etakana, discusion, fuert, del, restaurant, chines, ku, si, Alex Osari, abandona, el, lugar, sin, cominda, dos, en, nan, ku, etakana, discusion, kone, dos, en, nan, sindicato, e, punto, taku, tarretele, ahue, pe, bai, ta mafioso, bise, ma comprender, kum periodista, laga saco, vincular, e, maner, comerciante, italiani, machaco, ou, po, po, indicar, sr. Scott, co, botar, metá, de, mundo, de, máfia, to, qui, italiani, nan, de, justicia, ta, muestra, co, nan, kemira, nu, en, demas, bisa, kum, ner, corralo, tind, ber, ku, nada, kum, mafia, puse, sei, note, caso, definitivamente. Ho, Gerrat, italiano, corte di, appellasion, su, veredicto, awordo, ordenador, di, un, west, awordo, publica, decorante, mas, la, repubblica, paturende, toma nota, que, sun, ku, tilda, associa, francesco, corralo, ku, mafia, ta, in, ku, repercusionan, di, da, i, perjuicio, ante, veredicto, di, 9, di, september, 2021, un, west, den, si, manco, capi, passa, ordenar, pubblica, le, paso, kik, problemata, do, a, apriamalu, dibo, no, el, apriese, corrandan, el, abri, pa, social, media, entraneta, contamina, que, suceso, di, do, pa, pianto, negativo, di, kum, ta, si, remediato, lo, ti, fomenta, dembo, direcciò, e, unico, manera, ta, couti, un, articolo, nobo, couti, sali, e, ultimo, anto, ta, rectifica, lo, qual, abbo, ta, word, il, d'adige, anto, se, lo, west, na italia, asi, e, la, ordena, pa, pubblica, e, veredicto, di, september, dos, mili, un, persoonan, cu, nota, corda, of, stan, cu, no, sapo, se, veredicto, tabo, daniele, do, te, o, esa, ordena, pa, pubblica, le, decoran, mas, grandi, italian, ante, nan, entere, vrum, vrum, astarta, o, sal, vai, matende, un, periodista, ok, nan, te, inventivo, no, tende, nan, ah, no, pu, vai, un, proiecto, nas, Marten, ton, pago, pa, miembro, nan, di, rato, comisari, di, banco, central, nombrador, di, gobierno, di, marten, sostener, Emsley, Trump, a, nan, korsau, pesu, deseta, lo, quale, Emsley, den, cincuenta, cinco, aña, banco, centra, nunca, no, ha, si, pa, sen, marten, ahora, kidor, ketim, misteri, sosteng, di, miembro, and, di, rato, comisari, di, sen, marten, nombrador, di, gober, di, marten, a, cincuenta, turco, un, arcang, tapasa, un, arcang, tapasa, na, sen, marten, destruye, proiecto, con, nothing, decking, p, cincuenta, millón, dolari, anteo, eto, eto, da, un problema, di, acordar con la laga, e, bono, no, nos dice, e, bono, ti, balón, de mil florín, para cada blanche, cada bono, no, dos, decidí, con, anda, bendele, beneida, pari, pa, setenta y dos punto, un porcento, que, men, nabba, e, balón, bono, de, un, mando, le, as, para, nan, dos, indad, otro, que, bono, de, aqua, eléctrica, ha, 300 milion florín, elá, 238 milion florín, en vez de, ha, 300 milion florín, pero, tengo, paga, 300 milion florín, plus renta, den, el próximo 30, aena, anteposata, quinta paga, eléinen, no, Kaspersen, no, Emsi, Trump, comunidade, corso, a través de tarifa de agua, co, corriente, te sumo, te vai pagar, 500 milion florín, posso, renta, riba, eléinen, de 300 milion, e, bono, emiti, Paco Electri, te suma, un total, de 500 milion florín, ese, inán, la ladronicia, den, cara, di pueblo, anto, ave, Alex Rosario, co, enter, su fracción, di país, pueblo, soberano, mis, a quem, master, líder, Sencha, Welsu, Ashes, en, en, hidroval, nan, tur, cincu, cintad, en, parlamente, inclusive, señora, ravenou, co, se, man, pasar, me, nè, otro radio, coutur, di Etahuaki, con Andi Famacu, né, cus Jota, a canta, 19 de octobre, 2012, despez, co, elección, resultado, de elección, da, conocí, gabinete, Sota 2, na sede, di pueblo, soberano, sim, ambasá, MFK, acaba, di saca, iera, traves, ipeg, pisas, 5 mil, florin, cash, pesun, co, potre, se, prueba, co, Gerard, Francisco, Scott, a noche, 19 de octobre, 2012, a canta, gabinete, Sota 2, pará, na sede, di pueblo, soberano, entonces, no está, si uso, aquí, también, para, seguir, propagandá, lo cual, pec, pisas, a noche, anunciado, en el programa, de él, de él, ilustrar, con mentira, de la política, Dwight, está, turdía, nante, inventam, mentira, pero, es verdad, nán, que tengo, oro, de la política, y 8.2 millones, florín, fuera del Banco Central, con la financiación, consultando, a financiar, finalmente, campanita de referéndum, de sí, y 300 millones, de aqua eléctrica, y 150 millones, con una buena circunstancia, en un extraño, con la obligación, en la San Martín, para un half, con por cierto, nos tiene un problema, en el momento, con arcáng, pasa, con Dios, se va a tirar, para él, nada, no pasa, pero, nosotros, sabemos, que el problema, está, para el show, te sabe, que te gustan, tanto, quien, MC Trump, amigo, DJ, ¿Quién me gai? Casimiro, ¿Quién me gai? John, John Kiko, 2, John 2, con la orden, sentenciar, de un corte europeo, con la malversión, a estafar, en el valor, de 7 millones de euros, ¿Vos sabéis, que podrá agitar, Dwight? Mi casa, nos dio, ¿sá, cuántas que viene? 7 mil millones de euros, es la estafa, es la sentencia, que me viene, me será pago, con buta, de 34 millones de euros, quien está amigo, de John 2? Una pregunta concreta, vamos a poner Trump, man, te avisar ampliamente, cada día con John 2, está, en colaboración, para su operación, en la corzón, también, cada día con John 2, está bien, con el avión privado, ¿quién está saliendo, y se acuerdan con John 2? ¿A mí? ¿A vos? El hombre está, para 7 mil millones de euros, ahora, comisionan, del Banco Central, a expresar, al presidente, director del Banco Central, que John 2, no se acuerdan, no se acuerdan, al contrario, ¿no se acuerdan, reactividad de su banco, FCIB? No, que la haya, más permite, para hacer más negocio, de su banco, que está teniendo. ¿Qué interés, señor Trump, está teniendo en un hombre, con su comisión, su experto, en el Banco Central, de Antía Solandés? ¿Taba te indicar, que hombre, que está, veis, lo que es extraño, está, veis, a dar gente, palo, con un senco, que está, en su banco, para invertir, off, para su par, entonces, resulta, que aquí, ya que es el director, presidente del Banco Central, de Antía Solandés, de Antía Solandés, no, un pregunta concreta, ¿qué, fracción de MFK, lo que, alcanzar, con la reunión, en el Parlamento, después de la sentencia, con la TINCA, 13, a trope, tanto discusión, que costan, supuestamente, robes, del Banco Central, ¿qué pasa que logra, que la reunión, de Parlamento, no nos tengamos llegando con él? Papi, con la Controlería General, amén, que papi, con el jardín, pasó, nos torsamos, con el Banco Central, de Abaitrá, de entregar su retiro, en el señor Yamaludín, ex-ministro de Finanzas, un saludo, por cierto, en la Gé, en la BAC, en la Corsau, después de tres semanas de trabajo, en el continente norteamericano, no son capi con el jardín, no son capi con el gerente del Banco Central, además, nunca en la PAPI a verdad, en la contestación de ninguna pregunta, no está teniendo en fuerte, de un consejo de ministro, que me da señor Trump, a voto, puntará 23 preguntas, cada biaco, que tiene que contestar, es la búsqueda, es la leyenda, la leyenda de Banco Central, es la leyenda, la leyenda, la leyenda, es la leyenda, en la leyenda, en la leyenda, en la leyenda, ahora puntarele, que la vende bono, en la Acqualectra, arriba secundaria, y la esconde, tras de, en la leyenda, o de la leyenda, del Banco Central, después ahora contestando, si la vende, tu retrasas en el mercado, arriba secundaria, entonces no se ha pasado, quien va a comprarle, no se ha pasado, con la cuota en casa, en otro, después quiere, después abrir un bono, 24 horas para el banco, en el comerciado, comprar bono, que me pote, emitir un bono, de Acqualectra, en un porcentaje, de interés alto, entonces pote abrirle, y no se ha pasado, entonces pote darles, entonces pote un comprador, para, para, para comprar, hay una historia, que no se ha, pero no se ha, nunca es verdad, entonces, de manera, que hay un imperio, entonces el político, en los últimos 30, 40 años, se ha pasado, de manera aquí, en la fechadura, en el Banco Central, y en el escondido, que también, ya en una hora, entonces, en la fechadura, indica que la reunión, de la Comisión Central, una reunión pública, con por cierto, pueblo, por venir tranquilamente, sin tener esa ala arriba, bien entender, Kiko, la Controlería General, es el principal, arrancar, del buen regalo de Estado, tiene visa, sobre el reporte, que no se ha emitido, el 31 de octubre de 2012, y no se ha hablado, de secretarios, de Controlería General, para, que simplemente, verdad, que, la fracción de la AMFK, está preparada, para todas las preguntas, con la gente, de la Dirección, de Controlería General, de la primera ronda, que también, nuestra papia, con la Controlería General, nos ha contestado, entonces, de dos vueltas, nuestra papia, con un miembro, de la Comisión, nombrador, de gobierno, de Corzón, entonces, dos a sobre, el señor René Maduro, con el señor, tiene que usar, está aquí, lo que pasa, del Banco, ahí, que, el señor Trump, trae reglas, estatutos, con cualquier cosa, para proteger, para, ni, 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 nos ha formado, que el país, otro, Ruzulanda, tiene más información, del Banco Central, que, también, un órgano, un Estado, que está creando, de nuestro regalo, de Estado, está guardando, ningún, de, el presidente, de el Banco Central, pasa aquí, lo que está pasando, con la placa, del pueblo, con el que se produjo, para todo lo que se tiene, entonces, el resultado, es que, hay un miembro, del Parlamento, fraccionado, del Parlamento, lo que escondió, tras, no, nos ha guardado, el reporte, del país, Grazie a tutti. 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 ... 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